Tragedia stradale stamattina attorno alle 9 sulla statale 131 DCN all'altezza del Bivio per Posada. Un agente della polizia stradale di Nuoro, Marino Terrezza, di 36 anni, originario di Cassino, è deceduto dopo essere stato travolto da un'auto. Il poliziotto faceva parte di una pattuglia intervenuta per prestare soccorso ad un automobilista che aveva forato un pneumatico. Scattato l'allarme, sul posto sono giunte le ambulanze del 118, i cui sanitari hanno prestato i primi soccorsi all'agente e richiesto l'intervento del soccorso per tentare salvare la vita all'uomo che è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell'incidente, la cui dinamica è in corso di ricostruzione, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Nuoro e i carabinieri della compagnia di Siniscola. L'agente, che risiedeva da diversi anni in Sardegna, a Rosei, lascia la moglie e un bambino. Il presidente della regione, Cristian Solinas, ha espresso il cordoglio delle istituzioni sarde per la morte dell'agente Marino Terrezza in servizio alla polizia stradale di Nuoro, cittadino di Rosei, padre di un bambino, ha rilevato il governatore, che ha perso la vita nello svolgimento del suo lavoro, nel quale si è sempre distinto per impegno e generosità.